Dopo circa sette anni di trame e vicende che hanno tenuto i telespettatori italiani incollati alla televisione, la celebre sop Una vita volge al termine. La sop spagnola, che va in onda dal 22 giugno 2015 su Canale 5, vedrà infatti la fine sabato 12 novembre 2022, quando la Mediaset trasmetterà l'ultima puntata. Tanti i personaggi che si sono susseguiti e che hanno appassionato con le loro vicende dei telespettatori, diventando un po' parte delle famiglie degli italiani. Ma, come ogni cosa bella, anche la sop è arrivata alla fine. Ma cosa ci aspetta per il finale? Per quanto riguarda la nuova coppia formata da Dori e Felipe, abbiamo visto come l'infermiera abbia deciso di sposare l'avvocato. La giovane donna sarà in procinto di lasciare il quartiere per terminare i suoi studi in Svizzera. Ma è proprio quando la donna starà per partire che avverrà il colpo di scena. Infatti, Felipe deciderà di partire con lei, con l'intenzione di ricominciare una nuova vita in Svizzera. Ma nelle ultime puntate abbiamo anche visto l'ingresso di una new entry, Gabriela, la figlia segreta della perfida Dark Lady Enoveva. Abbiamo visto come nel corso delle puntate andate in onda Gabriela stia avvelenando la madre, sotto suggerimento di qualcuno che contatta telefonicamente. Ma Enoveva non morirà avvelenata. Infatti, la Dark Lady verrà colpita a morte da un personaggio che tutti credevano morto. Si tratta proprio del perfido marito, Aurelio Chesada, che non era morto nell'incendio del suo laboratorio e tornerà per vendicarsi della moglie, Rea di aver fatto uccidere la sorella Natalia. Ma sembrerebbe che all'uomo non spetti un lieto fine. Infatti, lo stesso Aurelio morirà per mano di un personaggio che nessuno avrebbe sospettato capace di tale gesto. Si tratta del suo fedelissimo maggiordomo, Marcello. Ma perché lo ucciderà? Sembrerebbe che la sua intenzione è quella di proteggere la giovane Gabriela, che, a questo punto, diventerà l'unica erede della immensa fortuna della madre Enoveva. Ma se non era Aurelio colui con cui ha pianificato l'assassinio della madre, allora di chi si tratta? Ebbene, della cattiva più amata della SOP, nient'altro che Cayetana Sotelo Ruz. Se ricordate le puntate di qualche anno fa, tutti pensavano che la giovane donna, in realtà figlia di Fabiana, fosse morta nell'incendio del suo appartamento, occupato poi da Enoveva. Ebbene, in qualche modo la donna è riuscita a sopravvivere e ora vuole riprendersi tutto ciò che ha perso. Non vi aspettate però di vederla sullo schermo, infatti si sentirà solo la voce di Cayetana durante una telefonata che le farà Gabriela. Vediamo, però, cosa succederà agli altri personaggi. Pasqual chiede a Hortensia di sposarlo e lei accetta con gioia Lolita, invece, ha deciso di andare a trovare suo figlio insieme al suocero, invitando Fidel a venirla a trovare a Cabraigo, lasciando aperta l'ipotesi che forse un giorno Fidel potrà essere più che un semplice amico per lei. I fan di Una Vita assisteranno invece al ritorno di un altro personaggio, si tratta di Leonor Hidalgo. La giovane scrittrice, dopo anni passati in Portogallo, non solo farà ritorno nel quartiere, ma deciderà di rimanerci ad abitare, insieme al marito e alle loro tre gemelle. Una grande gioia per Rosina che, finalmente, dopo anni di lontananza, potrà riabbracciare la sua adorata figlia. Anche Susana e Armando fanno ritorno, e sono diventati due imprenditori di successo nel commercio del petrolio, Fabiana, Servante e Casilda vincono alla lotteria e ora sono pieni di soldi. Ciò nonostante Casilda essendo troppo legata a Rosina decide di rimanere comunque la sua domestica. Mentre Servante e Fabiana progettano di usare il denaro per ristrutturare la pensione e trasformarla in un hotel di lusso, Bellita viene premiata con la medaglia per il merito artistico. Faremo poi un salto nel ventunesimo secolo. Il quartiere è cambiato ma il civico 38 è ancora intatto. Un uomo entra nell'edificio dichiarando che Felipe Alvarez Hermoso era un suo antenato, e incontra Lola, identica a Lolita. Inoltre ci sono altri residenti uguali a coloro che vivevano lì ai tempi del precedente cambio di secolo. Sembra che tra i due Lola sia sbocciato una sorta di amore a prima vista, quasi a simboleggiare che il legame tra Felipe e Lolita, che forse celava un latente amore tra i due, sia rimasto eterno. Che ne pensate? Per quanti anni avete seguito la serie? Vi piace questo finale o vi aspettavate qualcos'altro? Fatecelo sapere nei commenti.